Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti sul mio canale e io sono Maglus Ritorniamo sempre qui su Lego DC Super Villains Sempre per raccogliere tutti i vari mattoncini, lo sapete benissimo E' inutile che ve lo racconto, visto che in pratica da quello che potete vedere Siamo nella zona di Villa Wayne Perché ci sono ancora alcuni mattoncini d'oro che ancora non abbiamo recuperato Naturalmente questo video, un bel commento, un bel mi piace, mi stavo incattando Allora, qua c'è un mattoncino d'oro Personalmente non lo vedo C'è una... una signora? No? No, ci sta nessuno, vabbè, qua c'è qualcosa Lo vedo, lo sento, ma non ho capito che cosa Sembra tipo un labirinto sta cosa qua dentro Facciamo una cosa, ci mettiamo in alto Ecco qua, ok, ah no, aspetta, questo mi serve... Voglio non fermarci, lo dicevo, ci sarebbe stata una cattiva idea Lo so, però potrebbe essere una cosa buona questa Non puoi farlo? Pensavo fossimo inarrestabili Ce la fai così a rubro? Aspetta Perché hai pentito così spudoratamente Vediamo se ce la fai lo stesso Non ce la farai mai, è vero? Eh no, vabbè Cambiamo personaggio Hitwave, va bene Qua pensa che dovremmo... Non stai mirando, eh, te lo dico Qua pensa che dovremmo beccare soltanto... Solo monetine, solo monetine Ok, vabbè, non fa niente, è sempre buono Allora, dovrebbe stare da queste parti Eccolo qua, infatti Infatti, ah, ciao Porca miseria, a sinistra non te l'ho visto Allora, questo forse potrebbe interessarci per Raja Ghul Dei semplici mortali non fermeranno mai La testa del tempo Ah, devo rompere Oh cavolo Ma stai rompendo? Aspetta un attimo che da qua... Ecco, forse da qui è meglio Ancora No Ah, ok Ora è tutto chiaro Io pensavo di tagliare in mezzo Mentre invece dovevamo tagliare intorno Ok Ma ci dà qualcosa, no? Ah, là c'è qualcosa Aspetta, aspetta Che è sta cosa? Ah, per la corrente, credo No, abbiamo rifinito la macchina La corrente elettrica Ci salgo? No? Ah, ecco c'è l'altra Ma ci sta facendo costruire l'impossibile Ok Allora Le wire Sì Simpaticissima soprattutto Allora Se Ah, devo... Ok Rasiamo il terreno Ultima rampa Perfetto Ma Tocino d'oro, sì Ok L'abbiamo becchiato Ma che adesso Allora Ci dovrebbe essere qualche altra cosa di qua Qua dice in alto Qua sopra Proviamo a prendere magari un personaggio Che mi fa volare Ok Qua sopra Dove deve stare Gira voce che questo Wayne sia Mambat O che almeno sia un amico di Mambat Il tipo che me l'ha detto non sembrava molto sveglio Comunque Quel brutto roditore ha i soldi del capo Dobbiamo cercare di intrappolarlo così da recuperare il mal tolto È quasi tutto pronto ormai Mancano solo gli ultimi tocchi Ti va di darmi una mano? La paga sarà ottima Te lo garantisco Sì, se lo dici tu Se tu sei No, non è questo Allora, c'è da qualcuno che parlava E anche tanto Aspetta, vediamo un po' perché Non dovrebbe essere questo, no? Scusami, le wire Non è questo, no? Ti va credo che questo sia un percorso? No La si parlano delle persone Aia, attenzione Allora, qua c'era qualcosa Vabbè Facciamo così, vada Iniziamo a rompere Perché secondo me qualcosa qui la dovremmo fare sicuramente Però ho visto Musica Bella pensata La musica a palla Lo store dirà come si deve Ok Vediamo se questo ci può interessare ancora Non lo so Allora, di qua ho detto che la musica a palla Ci può servire Qua ci sono degli altri ceffi Ok Io rompo sempre perché a volte magari capita che Dobbiamo andare da qualche altra parte E poi invece tutt'altra parte Ma voi non fate una mazza, no? Allora, di qua non c'è niente Là c'era qualcosa Ecco, tipo qua per esempio Ok, vai Forse mi occorrerebbe Facciamo così, vada Joker Anche per chi pensa che il Joker Dove ci dovrebbe servire Vediamo se questo può essere utile per il nostro cliente Pare di sì Aspetta, credo che siamo a trappola per topi Eccellente Alla fine i pipestrelli sono soltanto dei topi con le ali, no? Dovrebbe andare bene Cioè, è andato a Batman del topo Vabbè Ci dovrebbe essere l'ultima cosa Se vai in alto mi fai un piacere, ok? Credo di averlo anche vista prima Mi sa che dobbiamo andare dall'altra parte Aspetta Allora, dovrebbe essere No, c'era tipo Sì, dopo, dopo, dopo C'era tipo una manovella da girare Se non ricordo male Aspetta Fammi vedere se sta di qua Sì, infatti sta qua Ok Io credo che sia questo E vai No Vai No, non cambia niente Vediamo se c'è qualche altra cosa qua Ah, ok Qua c'è un'altra cosa Ok Ah, mi serve anche le wire Ah, perfetto Dobbiamo far andare la corrente Sì Per cui Allora, Joker Fammi capire un attimo una cosa Dammi un attimo le wire Perché è sempre meglio Ok Quindi Questo è il percorso Ok Sì Da qua Ok Quindi giriamo questo Che dovrebbe Andare così Ok Poi da qua Va da qua Ok Quindi Se questo è il video di questo Mi dovrebbe andare Di qua Vediamo se Per adesso va bene Dobbiamo andare Solamente giù Vero Sì Ok Prova a girare Ok Grande Il grado diceva che è sensibile alla luce Si segerà dritto qui e poi Zap Resterà pagato Perfetto È tutto pronto per quella bestiaccia alata Immagino tu voglia la tua paga Beh, hai fatto un buon lavoro Prendi qua Perché ti spremi di questa maniera Ok Ci dovrebbe dare il mattoncino d'oro adesso Aspetta Ok Sa qua Sa qua Tremo sempre quando stanno così lontane Chi? Allora ce ne andiamo Sinceramente Allora qua ce ne dovrebbe stare un altro Prima quel brutto pinguino non vuole provare la mia grandiosa idea Della pista di pattinaggio E ora la fontana dei desideri non funziona Che giornata pessima Allora vediamo Aspetta Ah Rompi capo Ah È perso lo scontrino Mi se ne frega Allora Attenzione Perché abbiamo il tubo così Perfetto Quindi Ok Aspettate Che qua È importante Non perdere Il Il ritmo Ok No Ok Perfetto Vai Mi sembra stare sempre attenti A come parte Vorrei tanto avere una pista di pattinaggio Tutta mia Se Non c'è il mattoncino Sta ancora Ah ok Mi serve Frost Vabbè anche Captain Gold va bene No non fa freddo glaciale Allora non vedo una mazza eh Aspettate Ecco vai così Non credo che funzioni eh Vai Ci siamo? Ci siamo Il mio desiderio si è avverato Questo dimostra che si può ottenere qualsiasi cosa solo desiderandolo Senza impegnarsi Ma magari Eh Sta il mattoncino d'oro dentro però lo vorremmo eh Tipo Che schifo La peggiore pista di pattinaggio che abbia mai usato È troppo piccola e non è durata niente Voglio un rimborso Eh Ci Solo con lo scontrino che tu Non hai Per cui lo prendi in ciappetta Allora Andiamo avanti perché Visto che non c'è lo scontrino 30 giorni a novembre Sarà la caccia all'uovo di beneficenza Peggiore di Abbiamo già attivato qua Scusate Sì Mi sa di sì perché infatti non c'è niente Ciao Troppo a lungo sono stato considerato un semplice criminale di serie C Rubavo penne negli uffici Rovinavo le ricette delle frittelle di carnevale Tuttavia Bella vita Questa volta sarà diverso Quest'anno la caccia all'uovo della fondazione Wade Subirà la mia ira Ordinerò a quel terribile coniglio Di rubare tutte le uova di questo posto Sembra che il coniglio sia un po' in ritardo Ti dispiacerebbe andare a cercarlo? Certo Mi ha inviato una sua foto L'ultima volta che ci siamo sentiti Ma lo pezza? Ah beh un coniglio Magari immagini già che aspetto abbia Ma per toglierti qualsiasi dubbio Guarda qui Sì è un coniglio Va bene Seguiamo la pista Magari qualcuno di un po' più veloce Non mi dispiacerebbe Vai C'è anche indicato la pista Vediamo un po' Quindi dovremmo fare prima Ammazza Flash non so ogni volta che lo prendo È sempre Una meraviglia Stai morendo Allora Dovrebbe avere un aspetto da coniglio Attenzione È io che pensavo che l'avremmo dovuto Vabbè dai non fa niente Ci siamo? Dove che è la storia? Attenzione che io devo utilizzarlo sempre un po' con cautela Allora ci siamo vai In teoria di solito ci dai sempre indicazioni Sì Quindi partiamo da qua Dovrebbe essere Ok questo sì Qual è? Dovrebbe vibrare Eccolo qua Ok Anche il corpo Eccolo qua Perfetto Dovremmo Azzeccare tutto adesso Vediamo un po' Forse sull'isola di Stryker Ha una predilezione per il furto con scasso Ok ci siamo Così il coniglio non ce l'ha fatta Beh Quanto meno mi ha inviato Ce l'hai Ce l'hai davanti ce l'hai Di lui ci si può sempre fidare E di BN Gente affidabile A nome della fondazione Wayne Dichiaro aperta la caccia all'uovo di beneficenza Presto coniglio Recupera quelle uova Fai in modo che i mocciosi Non le trovino Ok vabbè Come trovare le uova prima di loro Se ho capito bene Ok Uno sta qua Uno sta qua Vai Ok Non l'abbiamo becchiato L'altro dove sta Sì però ci puoi evitare un po' più veloce Miseria Ok Scusami facciamo così Guarda Io non penso che dobbiamo usare per forza il coniglio Vero? No Perfetto Così facciamo molto prima Perché il coniglio qua ci mette tipo due anni Per fare le cose Vai Sì però facciamo butte figure su per me Ho detto che sei veloce E poi mi Mi vieni meno È morto Ok Un altro sta qua Facciamo che il coniglio sta un po' barando Ok Che poi non ci azzecca neanche Visto che è Natale Manco Pasqua Ragazzi sì Pulite pulite Ok Quanto stiamo? Me ne mancano ancora alcuni Vai Vai Me ne manca uno Dove il cavolo? Sta all'altra parte sta mannaccia Rapido rapido Perfetto Ritorniamo alla base Forse E vai Coniglio? Ho perso il coniglio Ok Vai coniglio Ma ha fatto tutto lui Eccellente Anche oggi siamo riusciti in questa uova avventura Bene gente Le uova sono terminate Ma non temete La fondazione Wayne Invita tutti voi al buffet di cioccolata Che stiamo allestendo nell'atrio di Villa Wayne Credo di aver sopravvalutato il trambusto Che prendere quelle uova avrebbe causato Forse alla fine abbiamo solo partecipato all'evento Come la gente comune Niente di più Credi mi lasceranno ancora avvicinare al buffet? No Dopo questa battuta no E' stata una nuova partita ragazzi Porca miseria Quando fanno queste battute Ok fammi vedere sto personaggio Così vediamo anche quanto costa Dovrebbe essere uomo calendario Veramente Uomo calendario Ok ce la segnavo sul diario Che fai voli? No C'è tutti i numeri qua Allora Qua c'è una missione Aspetta Ah il cane Oh il cane Servemmo solo delle foto Sarei così gentile da scattare qualche foto Vabbè Andiamo a scattare queste foto Ok Arrivo arrivo eh Non so se Superman C'ha la macchina fotografica Lo sai? Qua la vuoi la foto? Ah ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Magari No dobbiamo cambiare la Ho sbagliato Scusami Non dovevamo fotografare Però aspetta Ci possiamo fare un bel selfie Così guarda Aspetta Vai Basta? Sì Basta Preferisco se No se è pignolo Vuoi proprio la fotografia In faccia Vabbè Cambiamo Fotocamera Così vai bene Vai Contento? Contento Io pensavo che potessimo Uscire Cioè la potevamo fare con noi La fotografia Invece niente Arrivo Arrivo Vai rapido Ma poi sblocchiamo il cane Secondo lui Ma qua non sa guidare nessuno Niente a sta città Qua Arrivo Perché mi cambi sempre la visuale Porca miseria Sta squillando il telefono Superman Vai Sì però basta Esageriamo Vediamo fare 150 miliardi di fotografie Altri qua Vediamo se siamo un po' più fortunati Cioè niente Cioè niente niente da fare Allora il selfie non se lo vuole far fare Cioè mi pensavo che potevamo uscire Invece niente Mamma mia C'è una rotazione Superman Per me Ma stai solo tu Ma chi doveva inquadrare Scusami Forse così Ok Ci siamo Grazie a te Se ci serve Mi aiuto un osso Da mordicchiare Oh si l'abbiamo sblocchiato E crepto Lo so che forse Magari molto per me Si potrebbe anche pronunciare Cripto Però preferisco Cripto Ok Minchia 250 Qualche amiche Oh bel personaggio Mi piace Sembra Ok Non mi stavo penendo una cazziata Vabbè Tutti poi dopo a scrivere Hai sbagliato Hai sbagliato Vabbè Allora vediamo se c'è qualche altra cosa Che ancora non ci siamo fatti Qua c'è una corsa Oh qua c'è un mattoncino d'oro Che me l'ho completamente perso Vai Superman Da questa parte Ok Che c'è qua giù Devo andare sott'acqua Secondo voi No Oh bisogna scavare E tu penso che scaverai Vero Sei un cane Ok Se non riesci a scavare tu Certo sarà combinazione Abbiamo sblocchiato Ma monti anche No No non lo sai fare Hai ragione Hai ragione Vediamo se siamo fortunati Ah ce ne sono anche degli altri Vabbè Minchia poteva essere una cosa facile No Non c'è niente Qualcosa mi dice che sarà l'ultimo Che beccheremo che farà funzionale Ah no Ma che vuole Ogni tanto ci dice bene Ok Perfetto E questo è l'ultimo Vero Super bene preparati Dai Che bella coppia Una bocca E una mazza Ah ce ne sa ancora un altro Ce ne sa Oh che bello Vuole pure Non ho capito niente Qua non c'è niente Vediamo se c'è qualche altra cosa Che dobbiamo ancora rompere Aspetta eh Un'acchietta non sembra Anche se qua viene indicato qualche cosa Ma qua non è che devo saltare Sc super No Se Che cavolo è Non ho capito Che cavolo è No No Aspetta eh Lo devo rompere Ma porca miseria Superman Che cavolo stai combinando Aspetta Facciamolo alzare un altro Questo Vediamo se devo fare Questa cosa di qua Vai Questo l'abbiamo tirato in su Anche quest'altro Io penso che Qualcosa sicuramente Ho detto che era Un squalo eh Attenzione Grande lo squalo Grande lo squalo Grande 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 Dov'è che l'ho già visto questo Ma che ne so Ok ci dovrebbe essere ancora un altro Penso eh Perché ho visto che ce n'era ancora un altro Un altro Qua Perfetto Qua l'abbiamo fatti tutti Aspetta qua forse c'era una corsa Uh facciamoci un attimo la corsa Si dovrebbe stare qua sopra Ma non ho capito se ti serve un veicolo Oppure no Considerando il fatto che sta a terra Inizia una gara No Ecco Ci becchiamo magari Uno veloce Uno veloce Uno veloce Uno veloce Uno veloce Vorrei cambiare E ci Becchiamo Acqua Beh non è uno veloce Dove cavolo stava Coso là Come cavolo si chiama Vabbè ci becchiamo Kid Flash Devo concentrare tutta la forza Della velocità Si Impattato è che vinciamo Attenzione Ok Cavolo Una miseria Di qua di qua Vai 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 Ok Speriamo di farcela No Ok L'ultimo Perfetto Eh lo so C'ha ragione Allora ti sposti un attimo Perché ce ne sta un'altra qua Di mattoncino d'ora Che possiamo becchiare Che figata Questo cripto Ok Da vedere Il mondo saprà Quanto può essere Cattivo Da vedere Distruggerò Chiunque solchi Questi mari Nel modo più crudele Con l'assenza Di luce Servo Tu mi aiuterai A diventare Il cattivo Più malvagio Che Gotham Abbia mai conosciuto Aiutami a spegnere Quella dannata luce O perirai anche tu Perirò Ok Perirò Allora Allora c'è qualcosa Allora c'è un mirino Qua non ho capito Che cavolo c'è Allora Partiamo da qua La gira manovella Si Ah perfetto Quindi abbiamo sicuramente Azionato Qualche cosa Ok Devo alzare Tutta una serie di Per colpire Perfetto Aspetta Aspetta Qua c'è qualcosa Perché Tiene di stare Sempre laggiù Qualcuno Mi serve Uno che illumina Aspetta Paventa Passeri Vai Dovrai Dovrai aver paura Solo Perché Devi portare La luce In questo luogo Mi serve Il buio pesto Per completare I miei piani Si Voglio capire Se da qua ci manca Già qualcosa O posso Già Colpire Vediamo un po' Invece no Potevamo già Già colpire Perfetto Attenzione Che qua c'è qualcosa Con la corrente Là dentro Quindi Mi sa che dobbiamo andare Là dentro Ok Non ho capito Ah no Ti si è blocchiato Secondo me Perché è arrivato Fino a qua E poi Ti non pensa Che tu qua dentro Puoi entrare No Ok Quindi Quello lo abbiamo Sblocchiato Perfetto Qua c'è un'altra cosa No Questo è quello di prima No Non è quello di prima Ora vediamo Aspettate Ok Quindi forse Adesso Dovremmo farcela Dovremmo ritornare Un'altra volta Però qua ci stiamo Altro appoggio Facciamo così Prova a sparare Anche di qua E vediamo Dai Vai Ok Ci siamo riusciti Ups Sembra un po' Come un'isola Ma non può esserlo Non c'è nessun faro Ah no Saranno Delle strane onde Ma sicuramente Che cosa è stato Deve essere quel maledetto Dottor Light Lui e quella sua mania Di rubare la luce Del faro Ammazza Cioè Era fatto di mattoncino Doro Non c'erò che quello sciocco Si prende al merito Delle mie imprese malvagie Forse mi serve Un nuovo modo Per commettere nefandezze Ancora Con sto nuovo Si Direi di andarci a beccare Il mattoncino Che non sarebbe Una cattiva idea Dovrebbe stare Di qua Ok Perfetto Quindi anche qua Abbiamo completato Tutto Bel personaggio Abbiamo sblocato Una figata Sicuramente pazzesca Ok ragazzi Io penso che questa parte Possa terminare qui Naturalmente come se il mio video Come se mi mette Mi mette su Per commento Un bel mi piace Ci vediamo Nel prossimo video Bye Ciao